esordio al del duca nuovo esordio al del duca dopo 14 anni come hai giocato come ti sei trovato al fianco di Gnaurè abbiamo visto che in campo insomma dettavi anche un pochino le dinamiche della partita no? Quindi insomma ormai ti trovi perfettamente in questa scuola. Ma sì è normale poi più passa il tempo più cresce la simbiosi pochi altri ragazzi comunque mi hanno accolto nel migliore dei modi sono contento di essere qua e peccato per il risultato di oggi però stiamo lavorando stiamo lavorando tanto per assimilare ancora di più i meccanismi che ci richiede il mister per cui va bene testa alta e da lunedì si riprende a lavorare oggi in coppia con Gnaurè mi siete trovati molto bene e soprattutto con la tua presenza il centro campo ha acquisito molta diciamo struttura rispetto a prima però è mancato qualcosa in avanti tutto in fase conclusiva perché secondo te? Ma ci sta ci sta di comunque di rischiare di giocate siamo arrivati nel primo tempo con il secondo molte volte al tiro ma bisogna essere più lucideci però la prestazione c'è stata per cui ripartiamo da questo e al di là del risultato siamo contenti della prestazione tu hai parlato proprio di prestazione no? infatti eh oggi veramente avete fatto una grande partita e quello che ha mancato è solo il risultato no? questo vi deve dare la forza anche quello che va detto il pubblico a fine gara no? eh il coraggio lo trovate dentro di voi ma la classifica lo capite è quello che è quello che è stato in campo sì eh perché comunque eh io sono arrivato a partita prima di Bolzano anche a Bolzano comunque la prestazione c'è stata eh oggi ripeto sia il primo tempo che il secondo tempo siamo sempre stati in partita per cui sono convinto e siamo convinti che eh con le prestazioni arriveranno anche i risultati per cui siamo all'inizio del campionato eh ripeto dobbiamo dobbiamo solamente stare sereni per non guardare la classifica perché la più piatta per cui eh come ho detto con l'unica medicina è quella del lavoro siamo sicuri che arriveranno anche i risultati grazie